Brescia Un'etica contro ed antimonarchica No, non fu un'omicidio Lui non fu un assassino Vuoi sapere il perché Umberto era un re? Era sui libri di storia Se non avevi memoria Ora dimmi perché sui libri non c'è Nessuno seppe come fu Ma Gaetano non sparò più Al suo posto lo fece il re Per mano del suo duce Dici fu un assassino Anzi fu uno sterminio Vuoi sapere il perché E a volerlo era un re Via dai libri di storia Dalla mia e tua memoria Vuoi sapere il perché Ci potresti essere te Pag. E a volerlo E a volerlo E a volerlo Per mano del suo Grazie per la visione